L'appello lanciato ieri dal tecnico del Pescara Marco Baroni di prendere almeno 7-8 giocatori per completare definitivamente la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B non è rimasto inascoltato da parte della società Biancazzurra che subito si è attivata sul mercato. In questi giorni infatti i nuovi rinforzi stanno raggiungendo la squadra in ritiro a Boario. Dopo Fiorillo e Appel Pires ieri è stato il turno di Francesco Dettori, Birkir Bjarnazorn e in tarda serata dell'attaccante ex Padova Federico Melchiorri. A breve arriverà anche il difensore Raffaele Puccino in attesa dell'ok da parte del suo agente che lo libererà tra virgolette dal ritiro del Chievo Verona. Insomma la risposta da parte della premiata ditta Pavone Repetto è arrivata e non si è fatta attendere. E tra i nuovi arrivati alla corte del Delfino c'è anche il difensore classe 95 Mattia Altobelli, giovane molto promettente che in tre mesi è passato dalla retrocessione in eccellenza con la maglia del Darfo Boario, squadra della città in cui è il ritiro, il Pescara, all'approdo nella società del presidente Sebastiani. Per me è bello tornare qui perché rivedi la gente, i compagni, lo staff dello stadio, è stata una bella emozione, fa sempre piacere, poi quando ti trovi bene in un paese fa sempre piacere tornare. Dalla retrocessione della Serie D che cosa ti ricordi di quel giorno e soprattutto avresti mai immaginato di tornare qui con questa divisa pesante? La retrocessione è brutta per chiunque può retrocedere, però nel calcio ci sta, c'è chi va avanti, chi va indietro, poi adesso ho questa occasione, la sfruttiamo nei migliori modi e poi vediamo. Un Pescara che si sta rinnovando, Altobelli vuole esserci anche fra i confermati per iniziare la Serie B? Speriamo, è dura però sono giovane, dicono che c'è tanto tempo avanti, però il tempo qua vola, però speriamo di fare il meglio possibile.